Forza Italia apre i tesseramenti, nuove leve cercasi a pescare il coordinatore regionale e i suoi rappresentanti aprono le porte a quella che è e dovrà essere una casa, dove incontrarsi, confrontarsi e creare una nuova coesione politica, pronta a riprendere il cammino dopo le vicende che hanno visto la sconfitta elettorale. Nuovi profili, giovani e donne, una squadra più in linea con il 2014, l'anno che ha visto la salita del governo di un rappresentante giovane che utilizza i social network, che parla senza tecnicismi, che si presenta come cittadina al governo. Forza Italia si sta organizzando sul territorio, si apre a una campagna di adesione, questa campagna di adesione che si conclude a fine novembre, sortirà poi una serie di congressi comunali e noi faremo in modo che nel giro di pochi mesi tutti i comuni della regione Abruzzo abbiano i propri rappresentanti di Forza Italia. Il cambiamento è innanzitutto la ricerca per noi fondamentale di individuare nuovi dirigenti, nuove persone, volti anche nuovi, possibilmente tra i giovani e tra le donne. Mentre si cerca di ricostruire un partito fatto di fratture, di senso interno, poca condivisione e polemiche, nessun cedimento da parte del consigliere regionale Mauro Febbo, che invece continua a tirare stoccate al coordinatore regionale attribuendogli responsabilità e colpe per la sconfitta, ma al quale Nazario Pagano non ha mai risposto, ne risponde ora e spiega anche il perché. Questi sono argomenti, quelli sulle diverse valutazioni del partito che vanno affrontate nelle sedi, Forza Italia ha i suoi organismi che sono innanzitutto quello del comitato regionale e quelli del consiglio regionale, cioè le istituzioni del partito, basta parlare di queste cose e è opportuno parlarne in queste sedi, poi le diverse valutazioni esistono. Sull'organizzazione del partito le risposte non le dovevo dare io, sono naturalmente decisioni che vanno assunte a livello nazionale, adesso sono state assunte.